Grazie a Dio, ringrazio il Signore questa mattina per come siamo qui alla sua presenza. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in secondo Timoteo, nel primo capitolo. Leggeremo qualche versetto. È anche una gioia poter concludere l'anno stando qui alla presenza del Signore. Come sapete, ogni qualvolta si chiude un anno, è sempre tempo di bilanci, di resoconti, di analisi di come è stato l'anno appena trascorso. In ambito lavorativo, per chi lavora in qualche azienda, sa bene che la cosa che conta, in ultimo, è quello che l'anno abbia prodotto degli utili. Perché se non si sono fatti utili, la situazione non è buona. Io quest'anno, nell'azienda dove lavoro, i direttori, i responsabili erano tutti contenti perché quest'anno hanno fatto dei buoni utili. E allora questo mi ha portato a pensare su come veramente la nostra vita, dal punto di vista spirituale, dovrebbe essere inutile. Ma il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore questa mattina non è soltanto di ricevere, di realizzare utile, ma di essere utili. Portatori di utilità. Leggiamo un po'. Primo Timoteo, capitolo 1, del versetto 15. Dice così la parola di Dio. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figgello ed Ermogene. Concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché Egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli concede il Signore di trovare misericordia presso di Lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso ad Efeso. Signore, ti ringraziamo per la Tua santa parola, ci affidiamo alla guida del Tuo Spirito, perché ancora in questa mattina Tu possa parlarci, possa cibarci, possa darci grazia di crescere, non solo nella conoscenza, ma soprattutto nella pratica. Signore, dalla Tua parola. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen. Questa mattina vi parlerò brevemente di questo Onesiforo. Se avessi domandato, prima di iniziare la lettura, chi si ricorda nella Bibbia di Onesiforo, credo che in pochi, se non nessuno, si sarebbe ricordato che nella Bibbia c'è questo personaggio. Proprio ieri sera, mentre tornavo a casa con la mia famiglia, facevamo un giochino con i miei figli. Quali sono i nomi più ridicoli, divertenti? Non siamo arrivati alla O. Se fossimo arrivati alla O, io avrei proposto proprio questo nome, Onesiforo. Onesiforo significa onesimo più ferò, ovvero portatore di utilità. Se vi ricordate, nel libro, nella lettera a Filemone, si parla di questo onesimo, e c'è quel gioco di parole che fa l'Apostolo Paolo, versetto 11, un tempo inutile a te, ora utile a me ed anche a te. Onesimo significa proprio utile, e Onesiforo, aggiunta di questo suffisso ferò, significa portatore di utilità. E come ho detto nell'introduzione, di fatto quello che oggi voglio considerare con voi è se la nostra vita in quest'anno, ma in generale, è una vita che sta apportando utilità, che sta apportando beneficio al popolo di Dio, alla Chiesa di Dio, sta apportando beneficio laddove Dio ci ha chiamato ad esercitare la nostra strumentalità, il nostro servizio. Tralasciando la prima parte che abbiamo letto riguardo Figello ed Ermogene, andiamo direttamente alle considerazioni che l'Apostolo Paolo fa intorno a questo uomo, Onesiforo, la sua famiglia. Concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo. Leggendo il Libro degli Atti degli Apostoli scopriamo che l'Apostolo Paolo si è recato nella città di Efeso per due volte e la seconda volta in cui egli è stato ad Efeso ha trascorso circa tre anni in questa città. E in questo periodo è molto probabile che egli abbia alloggiato presso questo Onesiforo, un uomo che ha aperto le porte di casa sua e ha ospitato per tre anni questo servo di Dio. Lo sapete il detto? L'ospite dopo tre giorni... Paolo dopo tre anni non puzzava. Perché Onesiforo era un uomo che amava Dio e amava l'opera di Dio. E la cosa che veramente mi piace e mi stupisce è che lui serviva Dio con tutta la sua famiglia. Non era soltanto lui ad avere a cuore di ospitare, di tenere in casa sua questo uomo di Dio meraviglioso, ma era una questione che riguardava tutta quanta la sua casa. Tanto è vero che l'Apostolo scrive conceda a Dio misericordia alla famiglia di Onesiforo. Tempo di bilanci. E io in questa mattina vi chiedo, cari nel Signore, com'è stata la nostra famiglia dal punto di vista spirituale in questo anno. La nostra famiglia ha servito il Signore? La nostra famiglia ha cercato di onorare Dio? Questa è una domanda importante. Dicevamo proprio in settimana quando abbiamo ascoltato questa intervista intorno al libro nuovo scritto dal pastore, Le Dieci Porte, La Porta dei Cavalli. Il versetto 28 di Nemia 3 dice che i sacerdoti ricostruirono la porta di fronte alla propria casa. E quindi il servizio che noi offriamo a Dio non è un servizio distaccato dalla nostra famiglia. Noi non possiamo pensare che servire Dio riguardi noi stessi ed escluda quelli di casa nostra. Mi riferisco in modo particolare ai capi famiglia, alle madri, ai genitori, ma questo riguarda tutti i componenti della famiglia. noi dovremmo desiderare quanto a me, dice Giosuè 24,15, io e la casa mia serviremo il Signore. E allora in questa mattina, al termine di questo anno, ma con uno sguardo rivolto all'anno che sta per iniziare, voglia la nostra preghiera essere questa. Quanto a me e la casa mia in questo anno serviremo il Signore. Quanto i miei figli, mia moglie, quanto i miei cari vogliamo insieme servire il Signore, vogliamo adoperarci per l'avanzamento dell'opera di Dio. Quindi questa famiglia di Onesifo era una famiglia che aveva spalancato il proprio cuore all'opera di Dio. Non solo si andava ad ascoltare l'Apostolo insegnare, predicare, evangelizzare, ma Paolo era lì ospitato in casa loro. E l'ospitalità è qualcosa di speciale, qualcosa di prezioso. Quando c'è un legame forte che ci lega gli uni agli altri, casa mia e casa tua. Casa nostra è un luogo in cui possiamo ritrovarci insieme e sperimentare quanto è bello, quanto è piacevole, quando i fratelli vivono insieme. È fondamentale, cari nel Signore, non distaccare il concetto di famiglia dal concetto di servizio. Proprio l'Apostolo Paolo quando scrive le pastorali rivolgendosi a Timoteo e spiega a quali devono essere le caratteristiche del servo di Dio, lui specifica che deve avere una casa sottomessa, una casa che insieme ha maturato il proposito di fare la volontà di Dio. E noi domani, primo giorno dell'anno, come sempre facciamo, pregheremo per le nostre famiglie e io voglio iniziare fin da adesso a pregare insieme a voi e a chiedere al Signore che quanto a me e la casa mia serviremo meglio il Signore. Io e i miei figli, mia moglie, insieme vogliamo andare avanti in questo cammino a cui il Signore ci ha chiamato e vogliamo farlo con gioia. Però vedetevi nel momento in cui Onesiforo è pronto a lasciare casa sua. Paolo è stato arrestato a Roma sta vivendo una situazione di grande sofferenza e questo Onesiforo parlando con sua moglie e con i suoi figli all'interno di casa sua dichiara non posso stare qua devo andare a Roma devo andare da Paolo e così leggiamo perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Riflettevo su queste parole perché trasmettono due grandi verità l'Apostolo Paolo dichiara mi ha molte volte confortato che cosa significa? Che Paolo è stato tante volte scoraggiato pur essendo l'Apostolo Paolo possiamo dire il miglior esempio umano di vita cristiana in quello che ritroviamo nel Nuovo Testamento Paolo dice apertamente mi ha molte volte confortato lo scoraggiamento inevitabilmente arriva a tutti è fondamentale è fondamentale imparare comprendere che abbiamo bisogno di qualcuno che ci conforti noi non viviamo la Chiesa in modo distaccato separato disgiunto dalla famiglia di Dio perché se è vero che Paolo ha vissuto momenti di scoraggiamento c'era sempre un onesiforo pronto ad incoraggiarlo e io voglio benedire il Signore quest'oggi per tutti gli onesiforo di questa Chiesa ogni qualvolta qualcuno di noi è stato sarà scoraggiato voglio benedire il Signore perché ci sarà un onesiforo pronto a confortare a dare una parola a dare un'esortazione un incoraggiamento ad essere di supporto e quest'oggi insieme vogliamo desiderare Signore dammi grazia di essere uno strumento di conforto di essere uno strumento di consolazione uno su cui a un certo punto qualcuno può dire meno male che ci sei noi abbiamo lo Spirito Santo che ci consola Dio è il nostro primo sostegno ma se Paolo dice che lui ringrazia un esiforo perché c'era quando ha avuto bisogno un esiforo c'era significa che anche noi abbiamo bisogno gli uni degli altri e posso il Signore usarsi di medite perché quando qualcuno o quando noi stessi avremo bisogno ci sia un esiforo accanto a noi e ci possa confortare e come vi dicevo l'Apostolo Paolo era in carcere a Roma e quindi la prospettiva davanti all'Apostolo Paolo non era delle più rose pensate che l'imperatore era un certo Nerone e per chi conosce un po' di storia sa che Nerone era una persona abbastanza difficile squilibrata questo uomo fece uccidere sua madre fece morire anche le sue mogli e viveva di continue paranoie e a un certo punto questo Nerone pensò bene che la questione riguardava i cristiani e di conseguenza eliminare i cristiani avrebbe significato liberarsi dai suoi tormenti dalle sue paranoie Nerone ha governato tra il 54 e il 66 o il 56 e il 68 12 anni se non ricordo male ed è esattamente il periodo in cui Paolo si trova incarcerato a Roma quindi la prospettiva è certamente di morte non si scapperà non si scamperà non c'è alcuna via d'uscita e quindi chi è che vorrebbe andare a Roma in un momento del genere chi è che avrebbe il coraggio sapendo che c'è Nerone che non vede l'ora di spazzare via tutti i cristiani chi è che avrebbe il coraggio di andare a Roma e Paolo comincia a dire qua quando io mi sono girato non c'era più nessuno dirà più avanti nella mia prima difesa non si è trovato nessuno al mio fianco ma Dio mi ha reso forte e in tutto questo contesto drammatico di persecuzione feroce Onesiforo seduto a tavola a casa sua dirà ci vado io a Roma ci vado io a Roma gloria a Dio fratelli e sorelle perché la chiamata di Dio è più potente anche delle sofferenze e delle persecuzioni e Onesiforo seduto a casa sua dice ci vado a Roma e l'Apostolo Pollo lo esprime in modo molto bello anzi quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e mi ha trovato vedete questo uomo non ha fatto conti non ha stimato la sua vita qualcosa di prezioso nemmeno davanti alla propria famiglia ma ha fatto stima di quello a cui Dio lo chiamava a questo desiderio ardente di servire il Signore e voglio dire qualcosa questa mattina intorno a noi più andiamo avanti fratelli fratelli e sorelle come dice lo stesso Apostolo Paolo chiunque vorrà vivere piamente sarà perseguitato e siccome qua non c'è nessuna intenzione di fermarsi verranno prese decisioni difficili si faranno scelte forse complicate e al termine di questo anno io vi voglio dire che saremo tutti chiamati a un certo punto a decidere se andare a Roma o se restarcene ad Efeso chiaramente l'Apostolo Paolo era un uomo di Dio ma ringraziamo il Signore perché gli uomini di Dio ci sono ancora oggi e la nostra responsabilità è quella di comprendere qual è la volontà di Dio la chiamata di Dio e quanto è grande l'opera del Signore senza limitarci a considerare solo e soltanto la nostra vita la nostra comodità quello che in un certo senso ci lascia sereni vi racconto una storia noi ci definiamo eredi della la riforma protestante perché a un certo punto sapete nel 1517 Martin Lutero iniziò questo processo di riforma rispetto a quelli che erano i dettami canoni della Chiesa Cattolica ma prima di lui un secolo prima di lui ci fu un altro uomo un certo Gionus e questo Gionus era un uomo come diceva un vecchio pastore volto di Gennaro un uomo dalla mente enciclopedica un uomo straordinario un uomo che aveva deciso di servire Dio nel cattolicesimo ed era diventato vescovo di Praga ma un giorno tra le mani di Gionus arrivarono gli scritti di John Wycliffe un altro uomo di Dio che si trovava in Inghilterra e cominciò a leggere questi scritti e si rese conto che quello che lui stava facendo era sbagliato per farla breve qual era il concetto della Chiesa Cattolica la Chiesa sono i cardinali la Chiesa finisce nel clero il popolo non è Chiesa l'unica cosa che il popolo fa è avere relazione con la Chiesa ovvero il clero attraverso i sacramenti e Gionus si batte perché dice il popolo è tutto Chiesa ogni uomo ogni donna che si accosta a Dio riceve per fede la salvezza in Cristo Gesù fa parte della Chiesa inizia una guerra contro questo Gionus e lui viene perseguitato strenuamente viene allontanato e accanto a lui c'è un onesiforo che si chiama Jerome magari qualcuno Gionus l'ha sentito ma di questo Gionus nessuno sa niente ed è pure un uomo prezioso perché è lì accanto a questo Gionus ad incoraggiarlo a sostenerlo ad aiutarlo possiamo dire il suo braccio destro ma viene il momento in cui questo Gionus viene arrestato e lo mettono alle strette se tu non ti ribelli a Gionus noi ti facciamo morire di fame e questo Jerome preso dalla difficoltà evidente dopo tanti giorni in cui è chiuso senza mangiare rinnega Gionus solo che succede qualcosa nel momento in cui questo uomo comprende quello che ha fatto comincia a disperarsi e allora ritratta tutto ritratta tutto e dice io non posso tradire quel santo uomo di Gionus perché quello che lui dice è da parte di Dio Gionus verrà ucciso Jerome verrà ucciso ma la riforma è proseguita perché vi ho raccontato questa storia perché fratelli e sorelle come dicevo prima più andiamo avanti e più stare vicino agli uomini di Dio sarà difficile più stare vicino a quelli che hanno una visione da parte di Dio hanno una chiamata da parte di Dio sarà difficile ma quest'oggi al termine di questo anno e davanti a quello che il Signore pone davanti a noi vogliamo mettere dinanzi al nostro Dio tutta la nostra vita e dirgli Signore noi ti vogliamo servire Signore noi ti vogliamo servire con tutte le nostre forze con tutto quello che siamo e con tutto quello che possiamo e allora cari nel Signore quest'oggi la responsabilità che ci è rivolta la chiamata che ci è data è quella di essere portatori di utilità il Signore richiede a me e a te che quest'anno nuovo che sta per iniziare la nostra vita porti beneficio porti beneficio nella Chiesa nella famiglia ovunque Dio ti chiamerà e ci chiamerà possa la nostra vita portare beneficio utilità perché questo è ciò che Dio desidera Onesifero non lo conosce nessuno ma per Paolo è stato estremamente prezioso forse il mio e il tuo nome non risulterà scritto da nessuna parte ma se saremo utili fratelli e sorelle noi avremo una grande ricompensa davanti al Signore e allora in quest'oggi nonostante tutto quello che davanti ci può preoccupare e spaventare nonostante gli scoraggiamenti nonostante le amarezze le tentazioni le prove vogliamo elevare ad un sol cuore questa preghiera Signore fammi un portatore di utilità voglio esserti utile Signore Onesifero ha lasciato la sua famiglia ad Efeso dove serviva Dio dove onorava Dio perché c'era un bisogno più impellente e ha cercato Paolo a Roma mettendo a repentaglio la sua vita e alla fine lo ha trovato così sarà carine Signore se noi ci disporremo se noi manterremo questo fermo desiderio Dio ci porterà ad operare in un modo meraviglioso e i risultati che noi vedremo saranno al di sopra delle nostre aspettative delle nostre speranze ma qui dobbiamo mettere in discussione la nostra vita addirittura la nostra famiglia non si è vergognato della mia catena anzi quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura ma vi rendete conto fratelli e sorelle Paolo condannato a morte in carcere sotto Nerone e questo onesifero va a Roma e va in giro a chiedere voglio andare a trovare Paolo ma è possibile una cosa del genere questo è ciò che lo Spirito Santo fa vogliamo essere come un esifero mossi da un desiderio ardente dalla potenza dello Spirito Santo gli concede il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso ad Efeso qualcuno dice che forse quando Paolo scrive queste parole onesifero già è morto io personalmente non sono d'accordo perché a quanto leggo c'è ancora del futuro davanti a questo uomo in ogni caso il senso di quest'ultimo versetto ci lascia comprendere che indipendentemente da tutto quello che onesifero aveva fatto ad Efeso e aveva fatto a Roma c'era ancora possibilità c'era ancora opportunità per lui di continuare a portare utilità e io voglio lasciarvi questo versetto come una promessa una responsabilità e magari anche come un passo profetico concede il Signore misericordia quest'anno a tutti coloro che non si accontenteranno di essere stati utili ad Efeso di essere stati utili a Roma ma che possano essere utili ancora ovunque e con chiunque possa Dio concedervi misericordia possa la sua benedizione essere traboccante sulle nostre vite e allora questa mattina per concludere siamo disposti a portare utilità vogliamo essere utili non sappiamo ancora quanto tempo Dio ci dà da vivere ma ogni giorno possa essere un giorno in cui qualcosa di più qualche beneficio in più per la grazia di Dio lo possiamo compiere e se c'è questa mattina qualcuno che si sente scoraggiato se c'è questa mattina qualcuno che ancora non ha realizzato gustato sperimentato guarda un esifero un uomo normale ma un uomo che ha sperimentato veramente in un modo inequivocabile la grazia di Dio perché nessuno perdonatemi l'espressione nessuno sano di mente avrebbe fatto quello che ha fatto un esifero se non fosse perché la grazia di Dio la potenza di Dio traboccava nella sua vita lasciati avvolgere lasciati permeare lasciati riempire dall'amore di Dio dalla potenza di Dio dalla grazia di Cristo Gesù il Signore Gesù è questo ciò che ha fatto e ha compiuto e che vuole continuare a compiere non una vita sterile una vita inutile una vita utile una vita ripiena di Lui sappiamo ciò che Lui ci ha detto il nemico non viene se non per rubare ammazzare distruggere io sono venuto perché voi abbiate la vita vita ad esuberanza Dio ci benedica gloria a Dio alziamoci in piedi grazie a tutti